Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo in vestiti di Spider-Man e oggi faremo un piccolo speedrun, piccolissimo, non so quanto ore, di questo fantastico gioco visto che l'ho finito tutto e me l'avete chiesto in tanti, fai uno speedrun quindi dobbiamo fare uno speedrun, non dal record ma visto che l'ho finito tutto vediamo quanto tempo impiegherò per finire il gioco di nuovo Spider-Man è anche ben avvicinato, qua quindi vediamo assolutamente quanto tempo impiego per finire questo carissimo gioco che ci ha fatto impazzire a tutto il mondo, non solo a tutti noi italiani quindi siamo qua nelle vesti del nostro amichevole Spider-Man di quartiere qua piano piano, se no ci scassiamo tutti diciamo che ho distrutto anche il mouse, si può dire? si, si può dire già abbiamo superato il livello che praticamente noi, io sono stato ore e ore soltanto per superare il primo livello quindi già siamo, no, siamo ad un passo veramente alto vediamo quanto tempo ci sta qua è molto brutto ecco infatti è un punto molto è un punto molto tremendo quindi dobbiamo stare molto attenti a dove mettiamo i piedi no, stavo scherzando le mani perché lui non usa i piedi ma usa le mani se a volte farò un po' di silenzio è perché mi sono concienciato più del dovuto bravo, attenzione piano perché la cascata ci trascina giù afferrilo per favore afferrilo bravo, non so come si è afferrato perché lui è Spider-Man nelle vesti di Spider-Man è un gioco veramente disgustoso disgustoso, non è un gioco fantastico perché mi ha fatto sinceramente perdere la pazienza la pazienza più di una volta questo è un punto anche di cacca già l'ho afferrato vedete che oggi sono abbastanza tranquillo non cadere perché ti stacco le cornicchia e ti metto le corna di Spider-Man di Batman scusate ok qua ci siamo vediamo in che tempo finisco il gioco non cadere perché ti stacco tutto eccolo qua già siamo a un buonissimo punto siamo quasi nei giradischi qua non dobbiamo sbagliare niente perché se no io sinceramente impazzisco una, due, vai eccolo, no mamma mia Spider-Man sei un mostro sei sei un mostro sei chi ama Spider-Man ovviamente metterai mi piace a grandissimo a veramente a grande, proprio grandi grandissime mi piace qua sto perdendo un po' di tempo non dovevo perderlo però ci sta non posso essere un super speedrun anche perché forse sono l'unico italiano che fa una cosa del genere l'hanno fatto tutti i... 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 le lingue del mondo no 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 scendi 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 oh culo maio culo maio non ci arrivo non ci arrivo ci arrivo allora ci arrivo ok ci siamo adesso saremmo su eccoci qua tutto sta andando liscio come l'olio fortunatamente Siamo già arrivati nel punto del silenzio Più totale Dove si è appeso? Ok, ci siamo No, non scivolare Non ti aggrappare nei vetri Come si suol dire Eccolo qua No No Se magari ci fossero l'aranatelle Tutto fosse più bello e veloce E invece l'aranatelle non ce n'è Qua si aggrappa e scivola Qua siamo ad un altro punto Che Si è aggrappato No Si è aggrappato però non è aggrappato Non capisco il motivo però vabbè Scivola, scivola Ce la faccio di qua qua? Non ce la faccio Mi devo spostare per forza da là Ok Ci siamo Dammi sta maglietta Ragazzi mi se ne è andata Se ne è andata la mia mano in tilt Un secondo Non capisco il motivo Perché se ne è andata la mano in tilt Mi ha fatto un male cane Mi ha mollato tutto Tutto oh shit una due oh shit man vai prendiamo sta banana mettiamo sempre banana perché è una forma di banana senza nessun eccolo qua eccolo qua ci siamo una famosa cravatta però attaccate bene grazie una due e voilà e qua ci siamo attaccate grazie è caduto come un pesello ok 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 non ci arriverò mai qua adesso bisogna soltanto allungare il braccio una due e tre così bra no ok ok adesso qua dobbiamo svolinzare volenziamo che è già sette minuti e siamo arrivati no non sono sette minuti perché la prima l'ho rifatta perché sono caduto come un pesce quindi saranno meno ci riuscirò? sei un spadermans spara sta ragnatella no no non ci arriva sì eccolo qua aggrappiamoci a gran velocità perché ha perso già troppo tempo ora qua noi dobbiamo cercare di aggrapparci velocemente così no niente non ci riesco più facciamolo al diversamento è capito dai però perché è una cosa veloce dovevo fare ha med ok ok ci siamo ci siamo questo mi rampa le scatole no 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 dai che c'era questo ogni volta è un zamore riparo dai dai basta ora qua c'è un trucco vedete tutte queste manine che sembrano di arrampicarsi dobbiamo arrampicarci qua tipo velocemente è una cosa impressionante esattamente così no no merda così bravissime per scamparci tutto quel bordello e qua è la stessa cosa mi aggrappo qua però veloce 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 ecco questo è un trucco che non ha visto mai nessuno ce lo sapevo perché l'ho visto quindi e siamo arrivati in un punto che odio l'altra volta ci sono stato ben sette ore di fila ehi non scivolare questo è il punto che io odio più assoluto in questo gioco di cac allora il punto da tirarmi era questo eccolo qua poi ci dobbiamo tirare da qua alla uno e via e si vola questo è stato fatto questo è un punto che io sono stato la bellezza di 150 ore qua siamo pure nel punto che odio uno e due mamma mia mi sono aggrappato proprio come un colone eccoci qua ok non cadere perché ti stacco tutte le cose ti stacco stiamo facendo lo speed run vai 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 che ci sei vai che sto smuovendo tutta la corda vai che proprio non posso muovere non c'è arriva stascia arriva merda si è lanciato ragazzi impressionante spiderman comando 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 non c'è non c'è Ok, voliamo, voliamo. Passiamo. Sono anche la parte dove puoi scivolare per piacere. Qua dobbiamo fare un piccolo saltetto, saulello. E qua è un po' un ciauma perché dobbiamo saltare là sopra. Non è un ciauma. Ok, qua dobbiamo andare a finire in quel punto di là. Eccoci qua. Oh, scivolio, non ti ci vuoi aggrappare. A meno che non mi metta a correre e salgo come un porco! E qua, ora... Dovete fare esattamente come ho fatto io per arrivare Sani e Salvi. Eccoci qua, qua diventano sempre più piccole le piedi. Non ci siamo. Eccoci qua, mi aggrappavo qua. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Qua ci dovrebbe essere l'accello. Ma io sai, 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 quasi quasi, lo sai che faccio? Questo coso me lo salto. Tanto io ho la tecnica per arramparmi. Io faccio uno, due, uno, due! Ecco qua. Faccio da faccio. Non c'è bisogno neanche di fare qualcosa. Ci siamo. Uno. Due. Tre. Qua si va di qua. Qua io l'altra volta l'ho scioccato detto già finito. Invece non è freddo un cavolo. Facciamo questo. Ci aggrappiamo qua. Facciamo uno. E due. Ci aggrappiamo nel cervo. No, sta cadendo. Ok. Nuvoletta. 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 Due. Ok. Questa è fatta. Si sale. Si sale. Vai. Più veloce che è. Mai che il tempo conta. Il tempo conta. Il tempo conta. Il tempo conta. Veloce. Ci siamo. Qua stiamo entrando nello spazio tridimensionale. Nello spazio. E abbiamo concluso il gioco ragazzi. L'abbiamo concluso. In ben che si dica. Forse. Ehi. Ok. Special thanks. Ragazzi mi raccomando. Se il video vi è piaciuto. Se il video vi è piaciuto. E la versione spider man vi è piaciuta. Cliccate mi piace. E condividete. E ovviamente iscrivetevi al canale. Questo è tutto da david crap. Ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi. E si rinizia a velocità per un altro speed run di spider man. Eh. Vai. Si fa. Così. Veloce. Veloce. Sì. Vai. Vai. Super speed run. Nel prossimo episodio. Un super speed run. Arriviamo a 250.000 mi piace. Non sto scherzando. Arriviamo a 200 mi piace per un super speed run. Ciao ragazzi.